Voga 2016, miglior canale YouTube italiano scoperto quest'anno. Beh, penso di avere proprio il canale giusto per testo, infatti parlando di Calamaro, Gigante Pictures. Innanzitutto ti lascio il link del canale sul doobly-doo e sulla scheda qua in alto. Vai e iscriviti al loro canale, perché sono veramente molto bravi. Loro realizzano dei cortometraggi, ma realizzano dei cortometraggi in cui c'è una cura, una passione, una attenzione per i dettagli, una sceneggiatura, un editing, tutto veramente a livelli, oserei dire, maniacali. Una capacità di realizzare delle storie veramente eccellente, con dei numeri clamorosamente bassi, quindi è anche giusto che venga sostenuto il loro canale, per cui, come ti ripeto, vai lì, iscriviti. Hanno fatto dei cortometraggi, dei mediometraggi veramente molto, molto interessanti. E tra questi ti segnalo sicuramente un fanfilm su Dylan Dog, che mi è piaciuto tantissimo, che si presenta un po' come se fosse veramente una delle storie degli albi di Dylan Dog, ed è More Evil Than Evil. Ti lascio anche questo cortometraggio sul doobly-doo e sulla scheda, così gli puoi dare un'occhiata. Come ti ripeto, vai e iscriviti al canale, loro sono CalamaroGigantePictures, sono veramente molto bravi. E nel frattempo ti chiedo, tu invece hai scoperto un canale YouTube interessante quest'anno? Se sì, fammelo sapere con un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è Voga2016, noi ci vediamo domani.